Ciao a tutti, eccomi qui in modalità vacanza per un paio di giorni con il nostro nuovo outfit, cerco di farlo vedere, Avon. E' il primo costume che prendo dell'Avon, è bellissimo, è proprio bello, scusate se guardo sempre in là ma sono in un campeggio quindi non posso parlare neanche urlando, è un 3 in 1 comodissimo, c'è due pezzi, la parte di sotto come vedete è una gonna, però poi si alza e diventa uno slip a vita alta, oppure si può tirare tutto su e diventare intero senza spalline. Boh, mi vado a rilassare, a fare una doccia, che sono ritornata adesso dalla piscina e ci vediamo prossimamente, ciao!